Ciao, mi chiamo Paolo, se sei qui probabilmente condividiamo le stesse passioni, moto e viaggi. C'è stato un momento in cui ero in crisi anni fa e volevo trasformare la mia passione per le moto e per i viaggi in una cosa sola. Certo, quando ho cominciato io era difficilissimo entrare in questo settore, e quindi oggi che il settore è in forte crescita e ho deciso di esportare fuori questa esperienza fruibile da chiunque. So come ti puoi sentire, il fatto di pensare di poter lavorare in sella a una moto può sembrare un sogno, in realtà è molto realizzabile, dipende da quanto ci credi. Diciamo che se in questo momento sei stanco della tua routine o il tuo lavoro non ti va bene, questo è sicuramente un lavoro che puoi fare da transizione, è un lavoro che si può cominciare gradualmente. A me l'idea di salire in sella a una moto tutti i giorni per fare quello che mi piace, mi ha spinto ad andare oltre alle mie paure, mi ha spinto a inseguire quello che per me era un sogno, che oggi è diventato realtà. Anni fa quando ho cominciato io non c'era niente di questo genere e infatti ho avuto molte più difficoltà ad entrare in questo settore. Ecco perché nasce la Tour Leader Academy, quindi la mia missione è quella sì di aiutarti a realizzare il tuo sogno, ma anche quella di introdurre sempre più persone formate professionalmente in questo settore in modo da alzare anche il livello del settore. Durante questo corso non imparerai solo competenze tecniche, non imparerai solo a gestire i problemi, ma soprattutto scoprirai come mettere te stesso alla prova e come superare ogni momento, ogni situazione difficile. Questo è molto importante per me, il fatto di rendervi il più possibile consapevoli del fatto che questo lavoro è un lavoro che si può apprendere. Non serve essere un pilota della Dakar, non serve essere un pilota della MotoGP. Di sicuro ti darà molti sbocchi questo corso, di sicuro ti aiuterà a intraprendere questa carriera, di sicuro io ti richiedo il tuo impegno e la tua serietà. Tutti i percorsi difficili hanno un inizio, questo potrebbe essere il tuo. Se sei pronto ad affrontare le tue paure, quello che ti blocca in questo momento, che ti tiene lì paralizzato nella tua situazione che non ti rende felice, questo sicuramente può essere un ottimo primo passo. Ci tengo a dirti che questo non è solo un corso per diventare tour leader, ma è proprio un corso anche di crescita personale, tant'è che la parte dedicata solo alla PNL vale il valore del corso. Quindi non so cosa aspetti, non so cosa ti blocca, prendi in mano la tua vita, affronta le tue paure e per qualsiasi cosa clicca qua sotto su, manda dalla tua candidatura, ci sentiamo telefonicamente e cerchiamo di capire insieme qual è il percorso giusto per te. Ti aspetto qui, fai il primo passo.